musica 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 quante ha pensato? 59 s'aprezzo sì il bonus 9 euro, il bonifico. Speech, contante, argent, monete, lire, euro. Grazie. Una firma qui. E la ricetta. Buona giornata. A lei. Grazie. ma ti risolto 66 66 cosa hai segnato domanda nuova ma quel mi ha dato 66 scusa il casier ti ha detto di girare la segna si e tu l'hai girato si e là ti ha fregato si ha boccato non devo dover togli la segna dritto l'ho divinato ecco la tegina abbiamo perso 33 euro cosa ne ho vado io